Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, sono molto soddisfatto di questa edizione. Tanto pubblico, tanti ospiti importanti, tanti amici, per rinnovare il patto di amicizia tra noi, i comuni Arbresh, tra noi e i nostri fratelli Schiftar, ma soprattutto con la testimonianza di tante persone così che ci attestano la loro stima, anche la presenza dei nostri amici Caterina Misasi, Valerio Scano. Ecco, questo è importante per far conoscere alle nuove generazioni quanto è vicina la nostra cultura anche al mondo esterno. Che passano negli occhi, mentre ci sentiamo vivere, io capovolgo il buono. E quindi adesso l'appuntamento per l'anno prossimo, all'altro anno ancora abbiamo due edizioni ancora finanziate con il nostro progetto di attrattività dei borghi e la nostra sfida è ancora più importante, ci stiamo già pensando, forse ci saranno delle novità ancora più belle l'anno prossimo. Ecco, all'anno prossimo. Ecco, all'anno prossimo. All'anno prossimo.